Ciao, benvenuti a tutti, andiamo a vedere l'oroscopo di ottobre 2024, andiamo a vedere il cielo del mese e poi andremo a vedere anche con le mie carte, con i tarocchi, segno per segno. Iniziamo guardando un po' il cielo, come stanno messi questi pianeti, poi vedremo ovviamente il tuo segno zodiacale in specifico. Allora dunque, la prima cosa che mi viene da notificarti è ancora questo Plutone che abbiamo visto già in settembre, è rientrato, è tornato indietro, è rientrato nel segno del Capricorno, è entrato in acquario ed è tornato indietro. Quindi tutto il mese di ottobre è ancora Plutone in Capricorno, Plutone in Capricorno che andrà a scontrarsi nel mese di ottobre, cioè creerà un'opposizione con Marte dal cancro. Quindi ancora vedremo un po' gli scenari che abbiamo visto in settembre, ora ne parleremo. Detto questo, Urano continua a camminare ovviamente in Toro, Nettuno ancora in Pesci, Saturno in Pesci, Giove inizierà il moto retrogrado verso il 9 diciamo, 9-10 di ottobre, Giove inizierà a camminare indietro come Gamberi, Marte tutto il mese di ottobre cammina nel segno del cancro e poi c'è Venere. Venere che apre ottobre nel segno dello Scorpione, passerà poi 18-19 di ottobre, entrerà in Sagittario, mentre Mercurio dalla bilancia giorno 14 ottobre entrerà in Scorpione. Il Sole bilancia Scorpione, quindi tanti auguri a tutte le bilance e a tutti gli Scorpioni che ci ascoltano e bla bla bla. Allora, questo cosa ci dice? Allora, la prima cosa ve lo dico perché l'ho pensato, quello che sta accadendo anche a livello internazionale, a livello mondiale, sotto gli occhi di tutti, no? Ecco, io insomma, sono qui che un po' preoccupatina la sono, quindi insomma, ecco, siamo tutti adulti, insomma, è sotto gli occhi di tutti. Plutone che si oppone a Marte mi fa un po' parecchio di pensiero, però, 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 però nel mese di ottobre continuerà un po' questa situazione un po' caotica, no? A livello internazionale, non vado nei dettagli, non vado a parlare, però, però, insomma, qui c'è anche uno splendido Mercurio dalla bilancia che va a fare questo trigono splendido con Giove dai gemelli. E io, io personalmente, io, Penelope, voglio augurarmi che questo cielo voglia significare, senti come la metto giù, eh, ok? Voglia significare anche una, sì, uno scontro molto forte, però anche un abbassare un pochino i toni, ovvero sia, i toni saranno ancora quelli, ma io vedo un po' il dialogo. Ecco, questo voglio dire, qui un po' di dialogo, sinceramente, ci dovrebbe, ci dovrebbe essere, ok? Quindi un iniziare a dialogare, qui ci può essere un qualcuno che si mette in mezzo, insomma, che tenterà di fare da pascere, insomma, ancora un ottobre, insomma, un pochino così, almeno questo è quello che voglio, che voglio augurarmi. Comunque, detto questo, a livello più nostro, più personale, anche se generale, ecco, qui sicuramente il mese di ottobre ci può parlare, senz'altro, a livello personale, non so, mi viene da pensare anche a dei contatti, a rivedere degli amici, a un cambiare la macchina, chi di noi può cambiare il telefono, chi finalmente può comprarsi quel computer che tanto desiderava, ci può essere chi raggiunge un qualche grado di un qualche tipo, quindi una promozione lavorativa, chi si laurea, capito? Chi supera, diciamo, un determinato esame, non so se un concorso, ecco, un qualcosa di questo, un qualcosa di questo tipo, ora vedremo segno per segno. Anzi, fammi vedere una cosa, con gli oracoli volume 1, voglio tirare anche una carta così, molto generica, eh, per il mese di ottobre in generale. Diciamo un po' che mese sarà, cosa porterà, il mese di ottobre a livello proprio collettivo, poi andiamo a vedere, ovviamente, per ogni segno zodiacale, va bene? Vediamo, mese di ottobre 2024, ok, cioè, eh, di cosa vi ho appena parlato? Vi ho parlato di diplomazia, di vie diplomatiche, di parlare, no? Il messaggero, quindi di messaggi, di comunicazioni che arrivano, di sentire, risentire, rivedere qualcuno, a livello internazionale anche la parola, quindi il sì, uno scontro molto molto forte, insomma, qui praticamente ci sono due parti, sto a dire il nome dei paesi, lo sappiamo tutti quello che sta succedendo, insomma, che fanno a chi ce l'ha più duro? Ecco, cioè, questi pazzi scatenati, va bene? Chiuso l'argomento. Ecco, io voglio sperare che questi trigoni di cui vi stavo parlando possano servire a questo Plutone, a questo Marte che si stanno facendo la guerra, possano servire per, ok, come dire, parliamo, parliamone. Ecco, il messaggero, insomma, mi sta facendo sperare, ecco, speriamo che questo voglia significare questo transito che ho visto nel mese di ottobre, me lo auguro per noi e per tutti, va bene? A livello personale, anche lì, lo abbiamo appena visto, è un mese, all'insegna dei messaggi, delle comunicazioni, ma visto c'è questo giornale, anche dello studio, chi di voi studia, ok, può superare un qualche esame, magari un concorso, eccetera, chi lavora può semplicemente fare un corso per lavoro, superare un qualcosa, va bene? Dunque, qualche tipo, poi lo vedremo ovviamente per il tuo segno zodiacale, andremo un po' a vedere. Ecco, qui si può parlare anche nel mese di ottobre, con questo Mercurio che entra Scorpione, ma anche non sta venere Scorpione, con questo Urano, un toro, e questo Nettuno, pesci, insomma, Saturno, eccetera. Qui si può parlare anche di un mese che può portare, come ti posso dire, come tematica, come tematica, no? Quindi, come un discorso importante, prevalente, diciamo così, delle nostre giornate, qualcosa che riguarda la proprietà, mio e tuo. Quindi, chi di voi dovrà spartirsi qualcosa, si può parlare di buttare giù un testamento, si può parlare, capito? Tutte cose di acquisizioni, quindi magari chi può acquistare un immobile, chi può ereditarlo, e bla bla bla, abbiamo visto. Ma io voglio vedere a questo punto, molto genericamente abbiamo visto, abbiamo visto anche un mese a livello, sia con le carte, sia con le stelle, per il cielo del mese, ci hanno parlato di un mese ricco di comunicazioni, diplomazia, comunicazioni, venirsi incontro, comunicare a tutti i livelli, in tutti i sensi, va bene? Ma adesso andiamo a vedere per il tuo segno zodiacale. Andiamo. Allora, cari amici toro, il tuo mese di ottobre cosa vede? Un po' è un po', te lo dico subito, mettiti tranquillino. Allora, c'è un plutone splendido che è rientrato un capricorno, quindi forza, una bomba atomica, oddio, di questi tempi bisogna stare attenti, comunque, va bene, quindi, bello, ti dà proprio quella forza, ti vedo andare come un treno. C'è Urano ancora in toro, quindi wow, ok? Un Marte in cancro, splendido per il tuo segno zodiacale. Per contro c'è la Venere in scorpione e l'opposizione poi dalla seconda parte di ottobre e anche di Mercurio dallo scorpione, che cozzano un pochino con te, con il tuo segno zodiacale. Quindi una qualche difficoltà, un qualche misunderstanding con qualcuno, oppure potrebbe addirittura essere che qualcun altro non se la passa troppo bene e quindi intristisce pure a te. Però tengo tutti fermi, cioè qui, io ti vedo andare a tutta, cioè basterebbe anche solo sto Marte in cancro, sinceramente. Quindi tu c'hai Marte in cancro di là, Urano sul sole qui e questo splendido plutone in capricorno, tutti che ti lanciano questo trigono bellissimo al tuo sole. Guardati anche l'ascendente perché può mitigare molto quello che ti sto dicendo, ma per il segno zodiacale del toro allo stato puro, insomma, qui i transiti, insomma, e sono carucci, sono bellini, eh? Ok? Sono belli poi, ci può essere anche, così come la vita, un qualche screzzo, un qualche nervosismo, un qualcosa che non va come dovrebbe andare, specialmente con gli altri, no? Se si parla, insomma, del lavoro quotidiano, quindi magari una qualche noia, un qualche rinvio, una qualche difficoltà. Però, insomma, qui tu ce la fai alla grande, 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 issimissimissima a superarlo. Superarlo. Andiamo a vedere le carte che ho sanno da aggiungere a questo quadro, va bene? Mi raccomando di guardarti l'ascendente e la luna perché è troppo importante. Vediamo, segno zodiacale del toro per il mese di ottobre 2024. Cosa accadrà al segno zodiacale toro? Mese di ottobre 2024. Andiamo un po' a vedere, non so dove ho messo gli oracoli, ho cambiato location, quindi facciamo così, wow, wow, toro, l'imperatore, carta più bella là non ti potevo uscire. Volendo c'è anche i sette di bastoni, ma facciamo finta di non averla vista, ma io l'ho vista, va bene? Quindi ne tengo, ne tengo conto. Dunque, usiamo l'imperatore come carta oracolare, va bene? Perché, come ho detto, ho cambiato location, di oracoli, volume 1, non ce l'ho, ma a carta più bella non ti poteva uscire. Guarda, l'otto di coppe, ok? Toro, mese di ottobre 2024. Ok, otto di coppe, fante di coppe. La vedete, eh? Toro. Toro, mese di ottobre 2024. Toro, wow, zitta, zitta, zitta. Otto di coppe, fante di coppe, nove di coppe, cinque di bastoni. Toro, mese di ottobre. Ah, otto di spade capovolto. Ecco, questo è un pochino un po' simpateo. E il dieci di spade del taglio. Però mi richiamano molto quello che abbiamo visto dall'efemeridi, quello che abbiamo visto dal cielo del mese. Allora, io ti dico subito, qui c'è... Allora, una chiusura che ha ferito. Dico ferito perché, insomma, ce l'ho qua. Ma, esatto... Ma che è? Ma che è? Allora, qui c'è stata una chiusura, una perdita di un qualche tipo, una perdita di denaro o una mancanza di denaro. Quindi magari non hai perso nulla ma semplicemente non ne è arrivato. E quindi, insomma, c'è un po' questa mancanza di un qualche tipo. Ma qui ci possono essere anche dei toro che mi stanno ascoltando che magari, insomma, hanno chiuso una storia, insomma, hanno avuto delle conseguenze negative su qualcosa che hanno fatto. Qui c'è una conseguenza. Quindi significa che qualcosa che hai fatto sa portare i dieci di spade. Questo è chiaro. Ok, e ne avrà degli strascichi ancora, eh? Quindi degli strascichi nel mese d'ottobre su questa cosa che hai fatto o che non hai fatto, nel senso che è mancata. Capisci a me? Qui tu ne puoi pagare ancora le conseguenze. Ma queste sono carte splendide. Allora, qui c'è una realizzazione di un qualche tipo molto importante nel mese d'ottobre. Mi viene da pensare, guardando anche il cielo del mese, a degli esami. Quindi se devi studiare, se devi realizzare un qualcosa, qui tu ce la fai. Insomma, anche perché tu tenderai a difenderti, no? A tirare su lo scudo, insomma. Tu ti saprai difendere. Ci sono delle grandi soddisfazioni. C'è un miglioramento dal punto di vista lavorativo. Quindi un qualcosa di nuovo che andrai a fare, no? Per quanto riguarda il lavoro, ma anche affettivamente. Qui si passa da un affetto a un altro. Quindi se hai chiuso una situazione, potresti nello stesso tempo, o quasi, averne aperto un'altra. Ok? Per chi è solo, per chi è single, qui c'è una conoscenza. Ci può essere un'amicizia, un qualcuno che ti piace, un qualcuno che tu potresti iniziare a... come si dice, insomma, diciamo che ti piace, diciamo che ti piace. C'è un qualcosa, fammi vedere, cos'è questa carta qui? Fammi un po' vedere perché c'è quell'otto lì. Pazzesco. Perché? Ma guarda Allora, Toru, la prima ossa mi viene da dire stai attenta all'acqua. Subito, così a bomba. Ok? Stai attenta all'acqua. Poi c'è un'amica, magari, che è in difficoltà, che avrà bisogno di te, che è un po' in difficoltà. Stai attenta all'acqua. Ok? In tutti i sensi. Qui però, nonostante, c'è, qui c'è un po', no? E si vede anche dal cielo del mese. Ci sono delle critiche, ci sono degli attacchi, c'è un qualcosa di molto doloroso, qualcosa che ti potrebbe infastidire molto. Però, insomma, io ti vedo comunque andare avanti, Toru, bello, beato. Cioè, qui tu va avanti, omuntre. Mi fa vedere anche queste. Poi tiriamo le conclusioni. Vediamo anche gli oracoli dell'amore, cosa dicono. Cioè, qui c'è anche questa carta, c'è anche l'imperatore, che è bello dritto, bello, pam. Vedi, quindi il Toro è lì, bello fasciocco, qui c'è l'alberello verde, molto piantato, molto terreno, molto... Cioè, come dire, io non crollo, io non mollo, vado avanti e mi tolgo anche le mie belle soddisfazioni. Capito? Fammi vedere. Toro, certamente sì, so che ti hai chiesto dentro di te, comunque qui. Le carte ti dicono di sì. Toro, mese d'ottobre. Nuova conoscenza, vedi? Nuova conoscenza per il Toro. O magari l'hai appena conosciuta, eh? Perché qui, infatti, mi parlano di cose giovani, cose agli inizi, ok? Che ti daranno le sue belle soddisfazioni. Ma c'è un qualcosa di positivo anche per quanto riguarda il lavoro, eh? Per te. Non lo ammette, ma ti ama. Quindi sicuramente qui qualcuno che non dimostra appieno, però ecco. Colpo di fulmine. Io a diri il vero ne posso anche vedere due di persone, eh, Toro? Comunque poi vedi te. Qualcuno vede un ammiratore segreto che ti spia... Quindi qualcuno che ti vede sui social, che ti adora, però magari non si fa avanti per motivi X. Ma detto questo, detto questo, e non vuoi lasciare andare. Quindi qui c'è anche qualcuno che insiste. O insiste a romperti le pà, ecco. Va bene, un comportamento, insomma, un po' in quella maniera lì. Comunque, detto questo, qui c'è un qualcosa di nuovo, un qualcosa che si intraprende. Un Toro molto quadrato che va avanti, un setentena nemmeno. Nuove conoscenze, soddisfazioni anche grazie ad un amico, all'interessamento di un amico in un qualche cosa. Qualcosa di nuovo che fai e dei momenti proprio di grande affetto, non so come meglio dire, di grande affetto, di riconoscimento d'amore, insomma, da parte di qualcuno. Ci sono anche delle critiche, degli attacchi che potresti subire o te o per interporre sta persona, come ti stavo dicendo, magari sono rivolte a qualcun altro. Non so come è meglio dire, insomma, ne abbiamo parlato. Va bene, Toro? Poi, via via, settimanalmente, guardando le previsioni della settimana, magari ne capiamo ancora di più. Guardati l'ascendente perché mitica molto quello che ti sto dicendo. Comunque io ti vedo qui, uomo o donna che tu sia, eccoti lì. Bello, piantato, terra, tranquillo, beato. Non ti smuove nessuno dal tuo trono. Quindi vai tranquillo, vai avanti per la tua strada. Che io ti aspetto qui su Penelo per le secarte al mio prossimo video. Ciao!